Sette segnali notturni del diabete che non devi assolutamente ignorare. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Scopri i sette segnali notturni del diabete che non puoi ignorare. Cari spettatori, benvenuti in questo viaggio informativo sul diabete. Dopo che avrete visto tutto il video, avrete la conoscenza necessaria per identificare facilmente questa condizione e adottare misure preventive per mitigare molti dei suoi effetti devastanti. Gestire il diabete è una sfida costante, soprattutto quando il buio della notte rivela sintomi distintivi. Riconoscere questi segnali è fondamentale per una gestione tempestiva e un sonno ininterrotto. Esploriamo insieme questi segnali critici che non dovresti trascurare quando cala il buio, perché il diabete non fa pausa. L'apnea notturna, caratterizzata da pause nella respirazione durante il sonno, rappresenta una preoccupazione particolare per i diabetici. Queste interruzioni del sonno possono contribuire alla resistenza all'insulina e al cattivo controllo del glucosio nel sangue. Immagina svegliarti frequentemente durante la notte, disturbato da respiri superficiali. La gestione efficace dell'apnea notturna può coinvolgere la perdita di peso, modifiche nello stile di vita e l'utilizzo di macchine CPAP per mantenere aperte le vie aeree durante il sonno. Prima di continuare con la visione del video, ho una domanda per te. Hai mai notato disturbi nella tua respirazione notturna o hai esperienze da condividere? Scrivilo nei commenti. Segnale numero 2. Sudorazioni notturne. Le intense sudorazioni notturne possono fungere da segnale d'allarme per l'ipoglicemia notturna. Svegliarsi nel cuore della notte completamente bagnato di sudore potrebbe indicare bassi livelli di zucchero nel sangue. Monitorare costantemente i tuoi livelli di zucchero, regolare accuratamente i farmaci sotto la guida di un professionista sanitario e avere sempre a portata di mano fonti di glucosio potrebbero essere fondamentali. Segnale numero 3. Sindrome delle gambe senza riposo RLS. La RLS, con il suo desiderio incontrollabile di muovere le gambe durante la notte, è spesso collegata alla neuropatia periferica. È davvero un sintomo molto fastidioso muovere inconsciamente le gambe per tutta la notte. Non poter controllare il movimento delle gambe e sentirle muoverle incessantemente mentre si cerca di dormire è davvero stressante. Mantenere i livelli di zucchero nel sangue ottimali e apportare modifiche nello stile di vita, come ridurre la caffeina, possono alleviare questi sintomi. Segnale numero 4. Nocturia. La nocturia potrebbe sembrare un termine poco familiare, ma il suo impatto sul sonno è significativo. Immagina di svegliarti più volte durante la notte per andare in bagno. Questo non solo interrompe il tuo sonno. Ma può anche lasciarti affaticato e meno vigile durante il giorno. Ciò potrebbe indicare che i tuoi livelli di zucchero nel sangue potrebbero non essere ottimali. È essenziale regolare attentamente questi livelli e monitorare l'assunzione di liquidi nelle ore serali. Segnale numero 5. Ipoglicemia notturna. L'ipoglicemia notturna, caratterizzata da bassi livelli di zucchero nel sangue durante il sonno, è una preoccupazione critica per i diabetici. Questa condizione può passare inosservata, portando a potenziali complicazioni e si manifesta con risvegli con un'eccessiva sudorazione, sogni vividi o mal di testa a causa di un calo dei livelli di zucchero. Monitorare regolarmente il glucosio, consumare uno snack ricco di carboidrati se necessario e regolare farmaci sotto la guida di un medico sono fondamentali. Segnale numero 6. Sete notturna frequente. La sete notturna frequente è un segno comune di elevati livelli di zucchero nel sangue. Ti svegli spesso per bere durante la notte e senti come una sete insaziabile? Ecco, questo è un altro sintomo da non ignorare. Mantenere il controllo generale del diabete, regolare l'assunzione di liquidi durante il giorno e ridurre il consumo di caffeina e alcol possono aiutare a gestire questo sintomo. Segnale numero 7. Crampi notturni. I crampi muscolari improvvisi, soprattutto nelle gambe, possono essere angoscianti per i diabetici. Svegliarsi di notte a causa di dolorosi crampi muscolari è davvero fastidioso. Esercizi di stretching leggero, idratazione adeguata e terapie mediche possono contribuire a prevenire questi crampi. Permettetemi di condividere un episodio della mia vita che mi ha fatto capire quanto sia cruciale riconoscere i segnali del diabete. Un bel giorno, mi sono ritrovata ad affrontare alcuni dei sintomi di cui stiamo parlando in questo video. Al principio, pensavo fosse solo stanchezza o stress occasionale, ma man mano che questi sintomi si sono presentati più volte, ho capito che dovevo fare qualcosa. Mi sono vista coinvolta in un ciclo di nocturia, svegliandomi frequentemente di notte per andare in bagno. Le sudorazioni notturne erano diventate una presenza costante, e la sete eccessiva durante la notte era diventata un disturbo regolare. Non voglio nascondervi che all'inizio ho trascurato questi segnali, attribuendoli a situazioni quotidiane. Ma quando ho realizzato che stavano diventando una costante, ho deciso di affrontare la situazione. La mia prima mossa è stata quella di monitorare attentamente i miei livelli di zucchero nel sangue. Ho iniziato a tenere un diario alimentare e a osservare attentamente le mie abitudini serali. Questo approccio mi ha permesso di acquisire molte informazioni e correlazioni che prima non avevo notato. Consultare il mio medico è stata la chiave per ottenere una guida professionale. Abbiamo regolato il mio piano di trattamento, apportato modifiche allo stile di vita e considerato diverse opzioni per gestire queste nuove sfide. Posso dirvi che questo percorso ha reso una differenza significativa nella mia qualità di vita. Quindi, l'importanza di riconoscere e affrontare questi segnali non può essere sottolineata abbastanza. La mia esperienza personale mi ha insegnato che prestare attenzione ai segnali del corpo e agire tempestivamente può fare la differenza tra una gestione efficace del diabete e possibili complicazioni. Certamente, se hai sperimentato questi sintomi occasionalmente, non c'è motivo di preoccuparsi eccessivamente. Tuttavia, se noti che si verificano più volte, è importante che presti attenzione e consideri di consultare il tuo medico senza indugi. La tua salute è la priorità, e affrontare questi segnali in modo tempestivo può fare la differenza. Se uno di questi segnali vi è familiare o se avete domande, non esitate a condividere nei commenti. La condivisione di esperienze può essere di grande supporto per tutte le persone che soffrono di questa malattia e magari ancora non lo hanno scoperto ufficialmente. La vostra salute è la vostra ricchezza, e ogni piccolo passo può fare una grande differenza. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso i segnali notturni del diabete. Siamo curiosi di conoscere le vostre esperienze e di rispondere alle vostre domande. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale se avete trovato utile questo video. A presto e buone notti a tutti voi. Grazie per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale.